Taro e Sviktor, sono Veone Eladral assieme a Michele e siamo qui per parlare di La Resurrezione di F, il film. Già, è il nuovo film. Dobbiamo parlare. Allora, l'abbiamo visto con molte, molte aspettative. Sì, è vero. A differenza del... io almeno ho visto il precedente film con poche aspettative, la botella degli dei è già quello ma deluso. Sì, in effetti ce l'ha deluso. Cioè, il primo ha deluso, credo, un po' tutti. E questo qui, cioè, anche questo non è da meno. Mi dispiace, so che a molti è piaciuto, però no. Sinceramente ho trovato, secondo me, i primi prima mezz'ora, 40 minuti veramente patetici. Assolutamente. Cioè, già all'inizio... Frizzare il bozzolo. Quello è l'inferno. Ero richiuso in un bozzolo con delle farche, degli angeli e dei peluche che fa... Ok, quello è l'inferno. E poi all'inizio che... ho saputo che questo film è stato messo in CGI, no? Ah, sì. È stata messa in CGI. Sì, sì. È inutile. Sì, esatto. Vabbè. In alcune scene sembravano dei videogiochi. Sì, sì, sì. Quando Goku combatteva con... Dragon Ball Xenover. O Shinbudo Kai. Shinbudo Kai, sì, sì. Più che un film sembrava un... Ma perché hanno messo il 3D? È stato convertito in 3D. Ma perché è inutile? Forse per quando il pesce avrà bocca per mangiare i pesciolini. E i bambini... Ah, no, forse per l'aura blu. Perché, cioè, sì, la trasformazione... Hanno i capelli di colore blu. No, sembrava Sonic. Sì, qualcosa del Jay. Freezer è oro, cioè... Non so se... Non faceva paura, insomma, faceva più ridere. Il colore più... Il colore meno virile che abbia mai visto. Sì, esatto. Io sono Golden Freezer. Come se il Freezer non era già abbastanza poco virile. Esatto. Poi, Krillin che... Si taglia dei capelli. Ma, ah, Freezer sta arrivando sulla terra e tu ti radi i capelli. Vuoi ricordarti del fatto che tu sei morto? C18, cos'è che dici dopo? Ah, è davvero fortissimo. Ma che cazzo di... Ma per carità. Poi... A Gon ha la tuta da ginnastica perché non trova la tuta da combattimento. Solo per far vedere... Ah, ha la tuta da ginnastica. Ah, che bello. Ma poi, molti dicono che ci sono più combattimenti in questo film che nel precedente. Secondo me è Ua, alla fine. Cioè... C'è il combattimento... È che dura di più, magari. Sì, il combattimento da metà fino alla fine a O, che è diviso in due. I guerrieri Z contro gli scagnozzi da carne da macello. Praticamente li fanno fuori subito. E poi Goku controfrizzano. Anche Krillin si batte così, cioè... Erano forti. I prepare my whole life for this. It's Krillin time! Esatto. E poi Gohan, che ha un animo buono e gentile... E massacra più della mente dell'esercito. Combatte senza uccidere nessuno. Ma dove? Ma dove? Ma qua. Poi tanto gli danno il senso e ritorno in vita, anche se... Vabbè, non è un po'. E poi, vabbò, la scena in cui Goku e Vegeta sono nel pianeta di Lord Beals, che... Cioè, lì parlano e parlano e parlano. Lì veramente... Addirittura la scena in cui Liz pesta la cacca è veramente fantastico. Oh, ma il mio scopo è senza ritegno. Ma te sei senza ritegno. Sembrava più un cartone animato tipo, non so, Willy the Pooh, qualcosa proprio per bambini. Cioè, non era quel così. Ma neanche Arale fa così. Ma li fatti. Boh, vabbè. E poi, vabbè, il finale, poiché... Ah, tutto il mondo è distrutto, ma io posso andare indietro nel tempo. Ma sì, va tanto. Ah, ma sì, esatto. Tre minuti, boh. Poi arriva Goku, come al solito, è massacra di molte frizze. Non abbiamo imparato niente, assolutamente. Esatto. Vabbò, ormai poi Dragon Ball è diventata la parodia di se stessa. Il Super Saiyan God Super Saiyan. Che in realtà poi non l'ha detto neanche così. Ha detto, io sono un Super Saiyan God che ha acquisito... No, io sono un Super Saiyan che ha acquisito il potere del Super Saiyan God dentro il corpo di un Saiyan. Ok. Ok. Insomma, vabbè, è stata una piccola delusione, sto film. Sì, sì. Ero veramente pieno di aspettative. Alcune scene sono carine, il combattimento è bello. Vabbè, c'è una scena in realtà che è figa, quella là... Quando Goku fa così a Frieza e poi PAM! Un cazzotto come si deve. Sì, è epico. Però una scena su mille, cavolo. Dovevano fare tutto epico, no? E invece... Però, perlomeno a me o a noi personalmente è piaciuto di più di Battaglia degli Idei. Eh, sì, sì, sì. Quanto è divertente il bingo! No, perché non ho mai visto Vegeta così, però un po'. Beh, voi... Io consiglierei di andarla a vedere senza aspettare, se dovete vedere un film un'ora e mezza... Non è malaccio, però non è un vero Dragon Ball. Non è la Battaglia dei Guerrieri Invincibili o poi leggendo... Quello sì, contro Krolika, quello sì che era un film. Spero che Toriyama smetta di fare cazzate. Sì, spero che torni, diciamo, ad essere più cattivo, insomma. Boh, nient'altro. Ditemi poi che cosa ne pensate nei commenti. Ringrazio Michele per la partecipanza. E ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao!